Buongiorno, forse ti sbrighi per favore. Non andava, non andava. Ecco qua. Ciao! Bella. Oh, Ori! Ho iniziato la live! Rompi le palle! Chi? Subito, Ori! Perché? Perché fai casino, sale sulle cose e mi lascia i peli in giro. Ma è piccolo, lascialo stare. Piccolo piccolo, tanto inizia già ad andare verso i due anni, anche piccolo non è più... Eh, fino a due anni sono cuccioli. Ma sei già a due anni. Sì, sì, a due anni. Eh, allora non è più piccolo, basta fare i tre. Secondo la legge dei gatti, ancora un cucciolo. Eh, ma verso i tre non più. C'ha la testa piccola, comunque. È gigante, in realtà non è mai stato piccolo a livello prettamente morfologico. È piccolo. Non sa che dai tre anni iniziano ad essere, cioè, fuori dalla zona cucciolo. Amici, bando alle chiacchiere però, eh, questa mattina. Beh, adesso... Insomma, dobbiamo comunque parlare, se no è un problema. Sì, sì. Guarda, guarda, quante notizie oggi. Uh, no. Chissà. Adesso, ragazzi, faccio partire il termogiornale. Fermi! Facciamo termogiornale, rassegna stonca, poi guardiamo la conferenza Devolver insieme, e poi facciamo la tranche dei videogiochi. Esatto. Va bene? Dai, facciamo così. Quindi, Eagle. Sesso? Così, è vero? Sì, sì. Ciao, ciao e benvenuti in questa nuova puntata di Ti ha incastrato Roger Rabbit. Bene. Allora... Oh, vediamo un po' cosa c'è. È una pizza già, io non posso leggere. Vediamo un po'. Mi fa sorridere l'idea che a Raduno delle Streghe ci siano gli stand gastronomici. Sì, a quanto pare c'è stato il Raduno delle Streghe. Dove? A me sembra una poracciata, in realtà, però vabbè. No, no, in Italia. Però mi sembra una poracciata, vi dico la verità. Sì, effettivamente fa lì accettare i culi, ma... Sì, non si può vedere. Cioè, si vede solo un'immagine e... Boh, non so. Diciamo che mi fa un po' sorridere, ecco, questa immagine, l'unica che si vede. Eh... Vabbè, l'immagine sembra di una classica fiera di paese. Perché è una poracciata? Eh, non sai. Qua c'è un signore vestito come Pino Scotto. Ma non è vero, è vestito tipo... C'è una signora vestita da zingara, qui. Ecco qua. Eh, questa delle Streghe... Come cazzo si deve vestire? Sembra una merda, ma vabbè. Mi intrigano, però... Lago di Sè, dov'è che è? Poi la festa delle Streghe non esistono, ragazzi, smettetelo. E dove sono i genitori di Franci? L'altro in Lombardia. Ah, ok. Uno dei tre, quattro. I genitori di Franci sono a Lago di Sè. Sì, quello a sinistra del Lago di Garda. Va bene. Lago di Sè da me, veccio. Eh, vedi, vedi. Quando vado a trovare i genitori di Franci, niente, non ti chiederò di vederci, Gimbo. Me lo terrò per me. Sì, me lo terrò per me. Però, Marco, non so se lo sai, ma in Cile c'è una discarica di vestiti così grande che si vede anche dalle immagini satellitari. Madonna mia, è veramente quella roba lì? È grave sta roba. Più che è una discarica solo di vestiti? Madonna, Santa, ma è proprio... Ma poi che schifo, cioè esci di lì, metti quelli che abitano in città, che sembra una città un po' disgraziata, per carità, sembra un pochino trasandatina. Vai lì, ci trovi tutti questi vestiti buttati... Beh, guarda, di volta il Cile non è così povero. No, però ci sono città molto poveri in Cile. Cioè, guarda, pare che ci sembrassi abbruciata in alcuni tratti. Non so perché si è abbruciata in alcune strade. Ma quella è la foto, eh. Sì, no, ma è proprio nero. Comunque. Poi, cosa abbiamo? Un quintale di pesce nei bagagli, bloccato all'aeroporto. Un quintale di pesci? Un quintale sono tanti, eh, ragazzi. Un quintale è 100 kg. Eh, nei bagagli, cavolo. Non in generale, dico. Nei bagagli, un quintale di pesce sono tanti. Guarda che puzza. Era dentro, poi dentro il polistirolo... Cioè, penso fossero dentro il polistirolo e poi dentro una valigia. Sì. Perché? Che puzza, veramente. Va bene. CSI Vegas. TikToker si finge morto per 321 giorni e ottiene il ruolo del cadavere. Grande! Giosnelli è il manager di ristorante... Sì? Non mi ricordavo. Poi il tempo fa. Ah, vabbè. Infatti, però, mi tornava sta roba del cadavere. Eh, effettivamente l'hanno riscritta adesso, perché è l'articolo dell'86. Poi cosa abbiamo? Maleo è la lezione del don arrabbiato. I ragazzi sono maleducati. E io chiudo l'oratore. Questa pure l'abbiamo già letta. Ma sono mutate le sub. È vero. Aspetta, allora. Ringraziamo intanto l'Erican. Grazie mille, bello. E lui l'ho re. Tier 3, fortissimo. Abbiamo anche la Tier 2 di Iroos. Sono tre anni. Grazie a te, bello. Grazie a te. E poi, caccia, rinnovo perché me l'ha detto il capo. Sì. Ma di però. Devo chiudere la finestra. Devo chiudere la finestra. Vediamo qui che intanto gioca con il visore 3D, ma prende male le misure. La reazione. Va bene. È un video di uno che sbatte con il visore. Cioè, nelle compilation piene. Quindi, va bene. Vediamo. La reazione. Mi pare che questa discarica si stenda anche oltre i confini del Cile. Ha risposto un attimino in ritardo, no, Max? La cosa, però sì. Lo scogliattolo volante che simula la propria morte. Ma veramente, ma cosa è il video? Bellissimo. È come le caprette che si buttano. No, no, ma qui fa proprio tutta la scena. Mette pure la scopa a dosso per far finire se è stato colpito. È intelligentissimo. Stava solo giocando, secondo me. Però sembra veramente che... È intelligentissimo. È proprio drammatico. Si stava solo giocando palesemente, però va bene. Che belli che sono gli scogliattoli. Mi piacciono un sacco a me. Guarda che si mette a stellina di culo. Sì, fa proprio... M'roto. M'roto. Certo, Gibo. Allora. Questa è pazza, eh? Attenzione, perché abbiamo... Mangia carne crude fra taglie tutti i giorni. Ho perso 30 kg e non ho più acne. Per quello? Però stai per morire per altri motivi, secondo me, eh? Sì. Blu blu. Bambino di 15 mesi piange. Mamma scioccata dal biglietto anonimo. Fallo smettere, dobbiamo dormire. È polemica. Eh, ma come fai a dire fallo smettere? Credo che la mamma sia la prima a volerlo far smettere. Magari no. Come fai, però? Magari è uno di quei... Ma poi comunque non è che... Magari no. Comunque non puoi farlo stare zitto neonato. Alla siberta. Volendo sì. Eh, ci piangi, però c'è... Ci provi, ma se non lo capisci... Ci sono genitori che lo ignorano, perché a furia di piangere si abituano e lo ignorano e non fanno niente. In quel caso, ok, però se tu da fuori non lo puoi sapere, sì. Magari ci sta provando. Se piange da due mesi, sì. Che poi non è un messaggio minaccioso. Cioè, hanno scritto, per favore, per sei lunghi mesi abbiamo sopportato un bambino che piangeva in modo molto inquietante a partire dalla mattina presto. Per favore trova una soluzione. Abbiamo bisogno di dormire tanto quanto te. Beh, ovviamente hanno anche ragione, in un certo senso. Sì, non è un messaggio tipo, ti ammazzo, ti buco le gomme dalla madre. Se piange vorrà qualcosa. Non è che... No, ma infatti dico, cioè, delle volte magari non lo capisci al volo e via. Però se piange da un botto di mesi c'è qualcosa che non va. Ciappa, un'ottima battuta questa qui, eh. La morte. Sagace. Ancora un mistero risolto sulla circunvesuviana da Napoli a Sorrendo. In vagone con lo scooter. C'è nulla di strano, ragazzo. Tutto nella norma, mi sembra. Questa è la solita, ancora scimmie che si segano. Poi, tra l'altro, succede sempre a Napoli, giusto per alimentare le solite battute. Questa volta la cantina inizia a bruciare tutto in mezzo alla strada. Pazzo? Un 38enne romagnolo pazzo. Finito tutto. Barattoli di metallo. Ma poi se bruci i barattoli di metallo non è che vanno a fuoco. Era, guarda, palesemente rotto. Dunque? Eh, 32 day, quindi... Ma è... Si è incazzato a Esprit. Un magnolo ma in Val di Pei, ok. Vabbè. I barattoli, se li butti nel fuoco, comunque non è che bruciano, eh. C'è il barattolo di metallo. Bruciano se ritocchi, poi, eh. No, sì, nel senso, scottano, però non è che vanno a fuoco. I carabinieri di Cogolo l'hanno... I carabinieri di Cogolo. Cogolo, veramente. Povo, Cogolo. C'ha tutti i nomi dei settenani lì, comunque. Eh, vabbè. Maestra scatena i cori anti-juve in classe e posta il video nella chat dei genitori. Bufera social. Bufera social, ragazzi, eh. Bufera social. Posso capire che in Italia sia una cosa a cui prestare attenzione, però... Bufera social, Marco. Si è messo a urlare, chi non salta, Juventino è. Beh, è una cosa che a scuola non andrebbe... No, 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 ma indubbiamente, però... Non ha senso a fare la scuola. Bufera social. C'è... Sì, sì, Mono. Sì, sì. C'è Dire ciao e salutare, che è quel coglione di cinese generico, che chiede le ferie retribuite al boss, Marco. Ma sei sempre in vacanza. Perché è in sessione d'esame adesso. Va bene. Va bene. Ciao. Vai pure a studiare. Non ti preoccupare. Scoperto un computer di duemila anni. Lo stupore degli scienziati. E' quello lì? Dove funzionava, scusa? Un calcolatore. Ah, ecco. E' un orologio, infatti, misura il tempo. Beh, sì, però c'è un sacco di lancette, non credo sia semplicemente un orologio. E' quello che si avvicina, credo, di più a un... Dove sono un sacco di lancette? Eh, se vai giù c'è un... Non credo sia quello, eh. Non credo sia una ricostruzione. Quello lì credo sia molto più rudimentale. Aveva una X e qualche bullone. A me sembra una rotella. Questa è la ricostruzione. Credo. Sì. Poi, sì, c'era anche su Skyrim sicuramente quello. No, no, c'era anche Skyrim. Visto che ormai Skyrim girò ovunque, girava pure su Earth. C'era anche su Skyrim, perché sembrava una... Come si chiamavano i... La popolazione quella dei robot d'oro lì. Ah, gli Ptum. No. Non mi ricordo, però sì, quelli lì. I Ptumers, sì, esatto. Sembrava una roba loro, sembrava. Poi... Mi piaceva, la corazza era troppo pesante loro, non la mettevano mai. Sono abbastanza, ho visto che esista un altro simile di Cosa del Gendale, perché l'avamo visto in una traduzione. Può essere. Quindi magari per tutto quello sono basato in Earth Skyrim. Arnold Schwarzenegger ricorda la prima volta che vide i muscoli di Linda Hamilton per Terminator 2. Pochi giorni prima di iniziare le riprese, Jim Cameron mi dice... Perché scusami? Facciamo tutti una bella cena insieme. Si sa che è Bergamo, scusami. Linda arriva e poi si toglie il maglione e io guardo le sue braccia. Vedi sui bicipiti e poi sui tricipiti. Che più... In realtà è più svizzero. Ragazzi, non so che dire. Grazie, piazza. Più riso, tranne che in versione miniatura pensai... Non posso credere che questa figlia di mignotta sia più scolpita di me. Scritto questo, c'è scritto, ragazzi. Scritto quello, effettivamente. Non so perché lo stia dicendo Balotelli, ma questo è un altro discorso. Eh vabbè, era un bel fisico effettivamente. Aveva un bel fisico. È rimasto uguale poi fino anche a quando ha fatto Chuck, è identica. Era come il viso. Il viso sì. E tra l'altro anche in chat poi faceva la spia, quindi comunque era un casino. Doveva fare scene d'azio. Poi vabbè, c'era la controfigura. Beh sì. Poi, l'ultima nota is... Marco, te la lascio a te. L'Italia in finale del Mondiale Under 20 per la prima volta nella storia. Tra l'altro, piccolo fan fact, Luke ha detto di aver scoperto un giocatore della Nazionale ben prima su Football Manager, eh? Sì, era un caso. Che tra l'altro vuol dire che siamo automaticamente anche nell'Olimpiadi. Cioè l'Italia sarà anche alle Olimpiadi. Dell'Under 20, credo di sì. No, no, Olimpiadi. Olimpiadi e Olimpiadi. Chi vince... Ma le Olimpiadi tanto sono comunque le Under 20. Le Under 23 mi pare. Le Under 23, sì. Non vanno... Scusa, l'altra volta che ha vinto il Brasile, non c'era Neymar, scusami. Sì, no, poi ci sono i Polipopo. Ah, ecco. E magari qualcuno... Puoi avere... Sì, però la squadra... Cioè non va all'Italia. No, beh, comunque l'Under 23 ce n'è, eh. Penso addirittura lo stesso Tonali. Cioè non va all'Italia principale, dico, ovviamente. Però Tonale, ad esempio, sarebbe un Under 23. Dipende. Potrebbe anche giocare un Under 20, mi pare, Tonali. Ah, beh, quindi lui potrebbe essere chiamato. No, ha 23 anni adesso. Quindi mi sa che l'anno prossimo è una 24. Ma stop agli alimenti scadenti, dice Vector. Eh, beh, ci sta, eh. E possiamo passare alla visione della fine da vicino. Sì, stremmacela tu che qui non credo sia un problema. Luke, vuoi fare l'armacco o riesci a farlo dopo? Vabbè, tanto dura 20 minuti. Io lo... No, beh, no. Dura un cazzo. Sì, non dura... Allora, eh... Devo... No, beh, è la sigla, però. Visita, aspetta, fammi guardare... Tonali è uscito fuori che aveva 19-20 anni. 19 anni, sì. Eccoci qua! Nel visualizzatore atto a vedere le conferenze. Chi è Tan Lee, Ricky? Chi è Tan Lee? Eh, oh, così. Ragazzi, intanto vi ricordo che poi, finito il termogiornale, ordiniamo anche Ello Fresco per settimana prossima, eh. Là l'hai messa da un'altra parte. Sì, poi l'Ello Fresco, l'Ello, lo prendiamo anche quello dopo, eh. Ma guardiamo la conference. Vediamo un po', io non mi sono spoilerato niente. Io solo una cosa, ma perché era palese, prova. Io no, che cazzo è che era palese su The Wolverine, scusami. Cioè, c'è... Cioè, c'è già... Cioè, c'è già spoilerato tutto, ha già guardato, c'era io, vi ho detto... Non voglio sapere niente! Vabbè, non sto dicendo nulla, siete voi che state criticando, vai. Tu, hai già visto la conferenza. Non, vabbè, muoviti. Vabbè, muoviti. Ecco, parto. Spider-Man 3. Per generazioni di gamers, questo è lì tutto inizia, non sono arrabbiato. Il control icono dell'industria gaming, più influente di qualsiasi pop star o politica. La mascotte di tutto il tempo, con la mano grande, e una piccola. Volvi! 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 È orribile, ragazzi! È orribile, ragazzi! Ma dove è arrivato Volvi? Molti anni fa, Devolver Digital ha chiesto il designer non conosciuto Ronathon Trotfield, e ha trasformato il per creare un personaggio che potrebbe rivalrare i grandi nomi di un dame. Ma è White Shroop, ragazzi! Sì, ricordi, stavamo cercando di competere con i pescatori pescatori. Punk, Gex, Awesome Possum, Arrow, The Akron... Quello è il gioco di Liezer? E questo non era una piccola tazza. Uh, sì, abbiamo spenti un po' anni sull'anno, ma... Oh, no. Per essere sincero, non mi ricordo di ricordarlo. Mi ricordo di Ronathon mostrando il design final. Era un momento bellissimo. Quello viso, quelli bianchi di bianchi, e, ovviamente, Volvi mi piace, non è no? Volvi mi piace, non è no? Non mi ricordo di un'ottima, ma è un'ottima, che si è un'ottima, che si è diventato un'ottima, che si è diventato un'ottima. Abbiamo visto il numero di vendita, che si è diventato un'ottima, che si è diventato, che si è diventato, Non mi ricordo di essere un'ottima. E quindi, Volvi si è diventato a starare in una strada di titoli di hit devolver, Hotline Miami, Volvi, Cult of the Lamb, Grease, di Nomada. Che si è diventato, Oh, Non mi ricordo, Peku Neku, Insello del giallo, il listo si è diventato, Volvi si è diventato, e volvi si è diventato, è un'ottima, non solo per i videogame, ma per i pop culture, in generale. Volvi! Oh, è un'ottima, Volvi! Oh, è un'ottima, Perchetto! Ah, non si! Ah, non si! Fatti meno abbattimento, Ah, non, è una cacca. Dì, Achasso! Ma cosa? Oh, è un'ottima, si sta durando un pelo molto troppo 20 minuti si sta durando un po' 20 minuti in totale si, hanno fatto il documentario forse anche sull'onda di quello di Netflix però è un po' già al datato no, piccolo volvi no, piccolo volvi non mi ricordo, ma era ancora abbastanza orribile e ehm nessuno ha avuto il senso nessuno ha avuto il senso per presentare l'evento di lancio per il riporto riporto e riporto del migliore di video game volvi si può comprare volvi? ma sicuro ci hanno fatto il gioco per davvero poi eh, guarda adesso lo spero io me lo mettono su Enter the Gungeon mincazzo volvi 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 molto bello molto bello questo è bellissimo questo è meraviglioso e io per esempio non posso aspettare per vedere cosa tu e la squadra di Devolver si quindi cosa dici? vuoi verlo? ladies and gentlemen senza di più vorrei presentare a te il nuovo un'improvviso VOLVE E no, anche qua il futuristico che due palle oh my god è tornato incredibile ma come funziona? sono felice che ci hai chiesto Chris beh abbiamo preso il cuore e il sangue e il gioco è così amabile ma abbiamo dato un po' importante un nuovo update con lezze avanti non ho fatto sbagliato ecco ma ecco 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 potrebbe generare inizialmente nuove, giuste completamente spiegabili basate su prompiti semplici dal giro. Prompiti semplici, dite? Certo. Il consumatore non ha mai aspettato per un po' di programmi lentamente e sviluppatori di sviluppatori per essere... ...inspirati. Potranno usare Val V per giocare ciò che vogliono, quando vogliono. Sì, la critica immaginavo. Ah, ok, così li presentano i giochi. Questo è... Buongiorno. Escuchami... ...e ti dirò una storia. Qui stavano... ...sixi soli... The hunter, the nigger, and the wild swam's home The young chief rising and a weaver of bow Mi sa che l'avano già presentata Bellissimo! E mi ricorda Curse of the Mad Gods Che era quello pro nuovo No, questo era quello che dicevamo i maghi con le pistole Mi sa che si amava proprio così, tra l'altro Wow, wow Mi pare che se c'era un gioco si chiamasse così Ma che bella, senti qua Si Ah, l'anno scorso l'avamo presentata Ok, quello Si, ho detto che il personaggio sembrava biglietto Però cos'è che ha detto che è il sandbox Sandbox Survival Copyright Si, vecchia E' ma il... 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 Mi fai vedere il gioco, per favore Mi fai vedere l'altra volta, tra l'altro E' bella la canzone E' bella la canzone E' bellissimo E' eccolo E' Don Starb E' Don Starb E' Don Starb con le pistole Si, è molto Don Starbesco Eccolo vivi Proprio fisico Certo, preso da lui Parisi Vabbè, classico mago in realtà C'è il cappellino proprio azzurro in quel mod Ma questo mi potrebbe intrigare parecchia Ma questo mi potrebbe intrigare parecchia Sì, beh, questa cosa anche è Don Starb Cioè, metti le casse, ti fai la tua zona Però sì, il gioco è diverso Nel classico survival Eh, puoi fare... dai Sembra figo Sì, basta che non sia complicatissimo come Don Starb Che il survival sia meno... Don Starb era tosto, eh Eh Ma qui credo punti meno al survival Nel senso di sopravvivere e con mangiare Secondo me è più all'esplorazione Questo... questo mi può interessare tranquillamente Ma che cazzo c'è la faccia della demo Ah, c'è la demo Niente anno e niente Proprio di demo dovevo scaricare... Pinocchio per questa sera, ragazzi Che vuol dire Don Starb un piccolo mattone Tu sul Game Pass? Eh, speriamo C'era scritto Non c'era scritto Non c'era un processo reale creativo Solo Volvo E E il suo meravigliore L'apprendimento di macchina Non c'è Beh, ma anche fatto questo Piscia, piscia E c'è su Xbox sicuro lo metto Ma non è detto No, no, è una buona domanda In realtà Eh, ogni prompt E la idea di game Deve essere Digestato Dove caccare Dove caccare Sì Dove caccare Sì 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 Oh, ok Una foto con delle varie... Foto vecchie che c'erano su Ah, questo è Talos Principal 2 Ah, il gameplay Sì, l'abbiamo visto io e Franci Sì, l'abbiamo visto Sia quando mangiava Che dopo Quando prendeva l'aperitivo Sta facendo un'uscita romantica Quindi non l'abbiamo disturbato Questo luogo Potrebbe essere pensato Per testarci Ma forse c'è più da quello Per cui siamo testati? Sì, sì, vengono Anch'io non sono interessato C'era molti rimandi a Portal però C'erano degli enigmi Erano identici Sì, può ricordare Ci sono dei portali Guarda Ci sono più buchi che portali Quelli Però no, c'era prima Il flusso dove Spostare la roba Se la metti dentro Eh, ma è andato negli enigmi Eh, ma sembrava identico Aveva il flusso Solo era rosso Invece di blu Sì Oh, sì Wow Adesso avrete cominciato In dieci minuti Siamo a metà Più o meno Grazie, Balby Ecco qui Piccola cagata E non ho già presentato E la migliore parte è Che per creare un game Rispondi, bastarda Non bisogna nessuna esperienza O Quali di queste cose Tec Chi è qui Non c'è Non c'è Che per creare loro Io ho Grazie 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 E buongiorno Mistico Sì Hai una idea di game? Sì, vedi qui Allora 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 Hai una idea di game VALVEY Per generare Eh Eh Come Ehm Ehm Ciò Un simulatore super Occio коge Ehm Ehm Cosa vuol dire themselves Cosa potresti riuscire? Se potresti riuscire la mia voce, voglio che vieni qui Perché non sa vivere Sono proprio io Oh no, ragazzi È il gioco di Marco di Marco, ma sono io Per il gioco, però È un po' più bondino, però Eh, dobbiamo farlo, eh Questo qui Che schifo Bellissimo, però Come cazzo si comenta? Eh, per esempio ci sono Molta varietà Variambienti, eh? Sì, sì Ma perché hai passato degli disco? Chi è questo? È un schifo di uomo È un schifo di uomo Dove si muovono strani? Dove si muovono strani? Sì, stavo cercando di riuscire Sì, potresti di riuscire Sì, potresti di riuscire Sì, no, è un po' riuscire Che cazzo stanno dicendo? Sì, ci vediamo Questo lo si fa, eh Beh Gabe Cazzillo Eh sì Benetti Il 2024 Mi sono scusato Me lo sono dimenticato Nel 2024 Ma non c'era la faccia da cavallo Quello che... Lei aveva detto volare la faccia da cavallo No, c'era uno Un asino Ho fatto vedere Ah sì? Un cavallo Quindi cosa succede se mettiamo un pro In questo? Proviamo a Valvi qualcosa di veramente speciale Ciao ragazzi Cosa guarda? Cosa guarda? Non so niente davanti Il Lo Il Il Questa invece è la rappresentazione di noi Di noi, sì Questo è quello che vuoi dare a Valve E qui Ok, provate questo, Volvi Un sequel molto anticipato A un giro di co-op online Più più gameplay, più livelli Più più, più meglio All'interno Questa è quello che vuoi Show thema cosa hai Il Vanessence? Come canso? Ah no Questo dovremmo farlo Perché è il seguito di un gioco che facciamo Ah è bello, è quello che avevano detto Sì, è questo che me l'ho visto Sono molto felice io di questo qui Poi ci sono tutte queste cosine qua Se davvero la meccanica è anche questa Cioè di fare roba su materiali eccetera Disegnare, tagliare Non credo serva Sarebbe fighissimo Ma non servirebbe a niente Eh dipende Magari devi fare degli enigui In cui devi ritagliare del legno Metterci delle cose Potrebbe essere figo Mi ricordavo fosse da Devolver Il più Va bene, hanno fatto vedere neanche Per uscire qualcosa Cioè non credo neanche su Steam Eh? Vabbè la parte Se la fai su Steam Puoi guidare i salti Le ruspe Ma ci sono immagini proprio di gioco su Steam? Sì sì Ok Cioè in enigui più che di gioco Però sì Ci sono livelli Puoi guidare le macchine Puoi saltare sui ponti Beh Inizioni impazzito Puoi saltare sui ponti? Che feature è scusami? Sì perché ci sono i ponti Tipo rampa che puoi saltare Puoi avere la feature Attenzione Ce la spera che odi Attenzione Eh no a sto punto voglio il gioco di volvi però eh Oh no è uscita la mano di cacca Terrificante Battimento per fare sta cosa Lo sento come un picchiaduro adesso Non è mai finita Basta No è E si dà come i programmatori Possono salvare il mondo da ria Sì Sì Voleva sempre voluto essere un videogioco all'ultimo Ma che tristezza E' un altro gioco Vabbè Un po' esagerato E' così Vabbè Ancora No Ancora Voleva 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 Ha.. basta L'uomo Si ho parlato poppy jorghi eh si so che erano già annunciati questi praticamente due no due si che lui si è già sold out no direi che abbiamo fatto bene a non guardare ma insomma voglio guardare in diretta per più tempo adesso nel pre-life c'erano altri giochi magari quelli belli no in pre-show sono uscite delle bombe incredibili boh vabbè le guardiamo magari adesso su multiplayer se ne parlano dai e non c'è più il pupazzo io lo volevo questi inquietanti merdacci chi lo voleva il pupazzo marco eh tutti a quanto pare già sold out la seconda non è mai stato in venti era lì per ridere fortissimi ragazzi quelli di devolver poi sai devono anche presentare facessero una conferenza invece va bene che fa ridere molto carina forse è stata una cosa a parte un bel corto eh guarda quello di IGN guarda quando inizia il pre-life devono anche presentare delle cose eh se vedi quando inizia e quelle devolver sono sempre belle però appunto devono anche annunciare un po' di giochi sono sempre belle più o meno l'ultima conferenza sono belle sono belle divertenti è un bel corto però io vorrei vedere anche la conferenza come conferenza non va bene come cosa poi intrattenimento aspetta infatti io sono contento comunque sia il fatto è che devono unire queste belle questa bella diciamo facciata con anche degli annunci perché se mi fai tre giochi due li sapevo già poi uno non me lo ricordavo nemmeno io quindi per me però mi diverte a me loro non l'hanno mai fatto la conferenza sempre lo show il cazzo le prime conferenze facevano lo show e ti facciamo vedere anche abbastanza dei giochi e sono le ultime tipo le ultime due conferenze che ho fatto vedere due giochi in croce per carità anche i bellini però puntano tutto sullo show perché ormai è diventato questo evento divertente Cosmic Quill Sisterhood e in pre-show sono uscite le bombe ma perché non le fanno vedere a questo punto ma che bombe è uscito The Cosmic Quill Sisterhood Large Life 2 aspetta che li stiamo vedendo io non li vedo dove sono ah li stai facendo vedere sì non ho capito è un coso però questo è un come si chiama un dating sim sembra più o meno però con qualche enigmetto una visual novel sì una visual novel con qualche enigmetto ma giochi a basket con questo sludge life che sei già visto ma perché è che un down è aumentato non lo so scusa sludge life cos'è gatto mago del CEO questo qui sembrava un sacco carino l'avevo visto qualche giorno fa ultimamente sono considerato più sullo show perché ormai questo evento nullo ti ha fatto impazzire il web però sono scordati del magari hanno dovuto rinviare anche loro i giochi un po' spandini però avevano dei pochi eh non lo so era sludge life 2 a me comunque questo cioè come show è stato il mio preferito questo forse uno dei miei preferiti diciamo il mio preferito solo che si sono d'accordo cioè devono comunque annunciare dei giochi come corso se fosse uscito un corto a parte era molto carino però il fatto è devi comunque mostrarmi dei giochini questo sembra molto carino comunque ma ma a maggior ragione che ne avevano pochi questi giochi del presuono li potevano integrare nel capisci cioè almeno fai vedere qualcosa ma quella lore che hanno fatto sarebbe stato troppo lungo eh ho capito è so cazzi loro però hanno fatto così hanno tenuto solo i best per lo show effettivamente i giochi li stanno facendo vedere qui questo è questo canetto anche questo la paperella questa è da giocare in due tipo come si chiamava quello o ibeob ma non proprio uguale uguale ibeob era però c'è troppi player non so se eh sono tanti personaggi fino a dieci giocatori bestia sicuramente se lo allattavo con day of the dev summer game fest che sono stati entrambi un po sonniferi secondo me day of the dev non l'ho vista eh ho lasciato qualcosa anche lì ah questo è quello cioè avevano hellboy no no ma intrattiene indubbiamente quante volte ho fatto vedere hellboy è già tre conferenze si è l'ultima volta me lo ricordo mi ricordavo si l'ultima volta però non mi ricordavo ecco quando l'ho annunciato quando l'ho fatto vedere vabbè wishlist non l'ho fatto vedere un cazzo quindi era inutile anche qui questa è la faccia su steam di hellboy mi interessa ho visto un uomo sparato si shadow of the damn ned eh infatti dicevo ma non è un gioco vecchissimo shadow of the damn questa cazzà quindi per la scena prima gli sparava tornando ieri era stato proprio una merda vabbè ma quello cioè il day of the devil mi sa che era una roba extra cioè non è che era ma questi sono basta ma sono questi qua bombe non direi comunque si infatti bombe no magari giochi giochi carini interessanti credo che i quattro giochi principali hanno tenuti per lo show l'unico che non avevo mai visto era sto questo qui poi sludge life 2 boh ma il primo non è che era piaciuto troppo però magari se c'è qualche fan no questo qui a me quello qui a me mi interessa no questo qui è più interessante di quelli che hanno fatto vedere quasi dentro la conferenza no a me quello quello lì ed è uscito adesso quello lì west strano quello lì è quello che mi interessa di più per adesso quello lì è il boy pure è come si chiama quello di el boy wizard with gun no quello di el boy ah wizard with gun esatto quello forse è quello che è un pochino di più mi interessa però appunto l'avevano già dato l'avevano già fatto vedere io poi non mi ricordavo eh l'avete detto voi io non mi ricordavo che l'avevano già fatto vedere eh ma human for flat l'ha fatto c'è sì human for flat vabbè mi interessa non ho fatto l'annuncio però mi interessa sicuramente human for flat vorrei vedere qualcosa in più poi chiaramente però una dinamica che magari puoi interagire con dei materiali potrebbe essere sì effettivamente ma no marco era solo la scritta lì no ho detto sarebbe figo sarebbe figo aspetti se hai fatto un'idea sbagliata ma era solo per far vedere il titolo non credo mettano niente del genere però se lo metto non mi uscio ma anche perché non ma anche perché non capisco cioè non capisco l'utilizzo che può avere no beh beh come no negli enigmi devi intagliare dei materiali eccetera sarebbe fighissimo perché non l'utilizzo cioè una porta di legno devi prendere una palla infilarla magari in un buco devi trovare l'arnese per tagliare il legno oppure una saldatrice per fare col ferro con l'acciaio cioè potrebbe essere interessante in realtà cioè come come applicazione ne trovo l'ho fatto vedere da Sony tanto figurati se magari devi fare quello erano a posto da Sony ritagliando una una palla di ferro devi ritagliare della grandezza giusta perché magari devi farla andare su un determinato percorso in realtà nelle immagini nelle immagini c'è un tizio che ha in mano una sparachiodi sì no le sparachiodi diceva il giuk tagliare così però non si vede il coso di intagliare il legno la descrizione è un nuovo motore fisico nuove interazioni di gioco nuove meccaniche quindi potrebbe effettivamente esserci io l'ho buttata lì perché sarebbe una cosa carina secondo me poi ti fanno vedere che scrive nel legno o magari devi tagliare i materiali secondo me quello lì è solo non è detto non potrebbero magari è come di Gesù però se come dico io poi me lo devi succare poi me lo devi succare perché mai è perché a quel punto poi resta solo che me lo succhi muoro poi non si vede niente cioè sembra come per me allora io ti dico diciamo che una cosa che io vorrei diciamo che una cosa che mi piacerebbe il fatto di poter interagire con vari oggetti magari avere che ne so con la sega col martello puoi rompere cose costruirne guarda lì guarda lì che c'è un buco si faceva si faceva anche prima quello quindi non capisco perché toglierla prima prendevi un materiale prima prendevi una roba e lo sbattevi forte per rompere qualcosa adesso magari puoi prendere che ne so materiale effettivamente fare il buco tu si è un motore grafico diverso ma quello lì quello lì può anche essere però non credo serva a fare le formine cioè non penso fare il buco per passare può anche essere prendi il laserone e fai il buco e sul coso dei buchi per passare ci sono perché si vede un'immagine ma c'è anche nel c'era anche nel primo quindi quella cosa lì non mi no che tu devi disegnare su una parete proprio tu non c'era nel primo facevi il buco rompevi la parete non credo ci sia questo sarebbe un motore completamente nuovo se disegni tu e fai tu l'entrata proprio da qualche parte hai tipo un laser che fa di tagliare le cose magari questo non c'era nel primo nel primo rompevi la parete immaginati assincare una roba del genere sembra però vedi che devi tagliare c'è uno screenshot un buco che sembra fatto appunto con a mano diciamo sembra proprio sfondato tipo da un laserone che l'ha squagliato e si è aperto di là a me non sembra fatto a mano anche anche perché poi dopo si vede il muro da rompere qui normale non c'è questa scommessa ora dovrà succarlo al capo Marco la giustità è la giustità anche perché se no non ti mettevano le mura così rompibili dopo robe del genere quindi non penso vabbè vedremo vedremo vediamo sì sì quello sicuramente vedremo a Cosmic qui il sisterhood graficamente però è molto bellino questo e naturalmente non ci sarà in italiano Game of the Dead hanno fatto vedere qualche gioco interessante a parte che è andato la data di Viewfinder che non l'ha data ieri era andata ieri appunto ah no quello era Wayfind no la Viewfinder è quello il walking sim con i disegni da mettere in prospettiva per andare avanti ah sì c'è il 18 luglio va bene poi c'è Simpler Times che è un gioco che mi ha colpito Ken quali sono i giochi i Kenshiro game che ti sono interessati Simpler Times è un puzzle game nostalgico no no in quel senso attraendo un narrativo dei torni rilassanti con uno stile estetico minimale delle tonalità calde la produzione mette i giocatori nei panni di Taina una ragazza in procidazione di lasciare la casa dei genitori per iniziare una nuova vita nel preparare i bagagli per questo nuovo importante passo la giovane donna riscopre gli oggetti che l'hanno accompagnata bello questo di crescita un percorso che porta inevitabilmente con sé a una pioggia di ricordi è un po' leggermente all'unpacking interessante questo mi potrebbe interessare parecchio a me sta roba è tutta emotional così mi piacciono un botto magari non è un gioco vero e proprio ma è è packing più che un packing esatto devi fare la valigia Hyper Light Breaker che sembrava una merda hanno fatto vedere su Leo the Dev che peccato Hyper Light Drifter era fighissimo questo qui che l'hanno fatto in terza persona secondo me perde un sacco Refinder Kart Life sembrava molto carino ho visto poco fa su Steam Cocoon Cocoon mi si era già stato presentato Hell Skate che roba è sembra molto arcade vecchissimo gioco Haunti che grafica carina Hell Skate è uno skateboard roguelike skateboarding action roguelike devi grindare fare trick inseguire poi ti potenziali c'è anche le abilità vedo per power up per power up i tuoi attacchi e uccidere i mostri una variante underground della serie Tony Hawk sì è Tony Hawk RPG questo era Simpler Time quello che dicevate prima sì questo non mi interessa questo qui lo voglio fare non sembra un gioco di quelli particolarmente lo rivedremo sicuramente sabato all'Holson Game Fest questo non può essere ah sì Summerill Sardegna lo aggiungo già alla lista la lista desiderio adesso non è pensato ancora in italiano purtroppo non penso che ci sia molto e te e beh cos'è e te magari non c'è niente è stato in francese non mi ricordo male sì sì è stato in francese il più classico dei cozy games quel genere videogiochi rilassanti accoglienti che prima sviluppato da impossible no sono i vesti di un pittore che decide di recarsi a Montreal per trascorrere l'estate in relax l'esplorazione stessa della città è radicata nell'utilizzo delle tavolozze e pennello strumenti per raggiungere note di colore al mondo tipo viewfinder ma anche io ho pensato a quello sì devi disegnarti tipo le strade per proseguire Eternite non credo tienila R2 tienila mano ragazzi un titolo che punta verso il suo obiettivo è realismo una spolverata di JRPG era quasi da guardare guarda sembrano interessanti i giochini Mars First Logistics il Mars Rover che deve portare i pacchi quindi bello ah veramente Mars Rover sembra un incroso avrà le consegne Death Stranding e lo stile elettrizio di Sable Retro Gadget sembra molto carino ce l'ho in lista desideri Harry Halfhead il coso fatto da lululù entertainment lululù sembravano più interessanti questi qui di tutte le altre conferenze sinceramente poi non so la conferenza perché è stata una palla ma è perché parlavano tutti di di tutto allora capisco benissimo torniamo alla schermata di Just Chatting e vediamo di leggere tanto le notizie probabilmente sono tutte queste quelle erano vediamo tipo che per sbaglio hanno dato la data di persone 3 reloaded e persone 5 tactica ho letto una roba del genere come per sbaglio si che hanno twittato per sbaglio si è uscito proprio il video di persona 3 remake e sembra reload si reload va bello il remake di persona 3 sembra persona 5 in sostanza che bello l'ha rifatto proprio alla persona 5 alla persona 5 tra virgoletta tra virgoletta che bella la collector di Spider-Man 2 è molto carina si piacerebbe prenderla mi piacerebbe prenderla costa troppo non lo farò è l'ultima notizia che mi piacciono non mi piacciono non mi costa no ma quelli sono pro in game no sotto a me piace molto solo che costa costa troppo persona 3 reloaded inizio 2024 persona 5 al 17 novembre ho visto che c'è Andrea che ha già scritto che la prende la statua è figa le skin in game del pre-order bonus fa un cacare non mi faccio ordinabile sono strana direttamente non particolarmente dal 16 giugno se la vuoi prendere devi prenderla subito no no ma non la prende ma 200 e più a parte che non so dove metti eh ma non saprei 200 euro 50 centi questi cazzi che bella non devo prendere un po' troppo le robe belle vabbè considera che sono 250 euro però vabbè togli 80 euro del gioco togli in realtà è la deluxe quindi sono 100 euro sì la statua ti verrebbe 150 euro praticamente sì ma la deluxe che non prenderesti quindi sono 80 euro diciamo che per adesso non credo la prenderò poi magari più avanti ti cambio idea credo che finirà subito secondo me eh tu ho detto Andrea la prende cioè è bello gasato 50 centimetri è anche bella grossa la statua per carità niente da dire proprio non sono early unlock se giochi ce l'hai anche te le le tutine ah ma le ski più che altro le tutine mi sembra un po' una roba l'assassassin creed non mi interessa non c'entra niente con spider man tu early unlock imbarazzante ho capito ma sono sì poi ci sono 10 no poi ce ne sono 10 unique su quelle più altre 10 sono queste qua ma poi io spero tipo eh Peter che è attaccato con la ragnatela spero sia una calamita e non una roba appiccicata e basta perché si può rompere facilissimamente invece se è una calamita è molto meglio l'attacchi e via non si capisce io preferirei fosse una calamita non si vede allora nell'immagine non si vede è perché ultimamente quando fanno queste figure grosse e devi attaccare dei pezzi sospesi usano una mega calamita in modo che il pezzo non si spezza e lo puoi riattaccare tranquillamente attaccandolo con la calamita vedendolo in un filo non credo possa essere no alla fine del filo magari metti un gibollone così che si attacca alla schiena di il filo che non vedi però rischia comunque di spezzarsi il filo secondo me avrà un supporto adesso io non te lo fanno vedere ma avrà le solite stecchette trasparenti che tengo eh ma così devi fare una stecca lunga non so quanto sia bello esteticamente eh lo so ma tanto come fai a meno che semplicemente non sono dei un pezzo di ferro si piega poi si però è veramente fragile secondo me o è tutta la ragnatela di metallo ridipinto e quindi mettermi le skin esclusive in un gioco dove devi andare in giro a collezionarle mi sembra proprio una puttanata ma poi sono skin ti ho detto sembra i sui auditori cioè non c'entra niente con lo no le altre dieci quelle esclusive della deluxe eh ma sono tutte le skin di quelle lì no 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 sono completamente diverse ah queste qui dici queste in basso sì questa è una cacata secondo me non ha senso poi sono armature che non ho mai visto non credo siano neanche famose non lo so a me quando sono tutte così mi fanno cacarissimo cioè preferisco quelle più tendenti al classico ma infatti sono quelle che usavo io poi nel gioco io usavo quelle classiche sono proprio bruttine queste qua mi piace l'idea cioè alla fine gioco a spiderman per immedesimarmi nel personaggio di cui ho sempre letto le cose quindi tendo a usare le skin mie quelle che conosco sono unique le due che c'è scritto early sì le altre no quelle altre sì queste qui no non sono sbloccabili in game in teoria c'è scritto uniche eh quindi no eh che prende questo pacchetto solo per le skin cos'altro ti danno additional photo mode no in questo qui no questa è la digital deluxe ti danno due skill point e nel preorder bonus ti danno più tre skill point ma ste robe sono imbarazzanti nei videogiochi però mi puoi dare cinque skill point se preordino la digital deluxe in un gioco single player no questa non mi fa cagare a me ma tanto c'è la statua la gente il 90% lo prenderà per la statua perché devi aggiungere ste vacate no ma questa è la digital galaxy non c'è la statua qua vabbè però la steelbook è figa se lo fanno è perché lo compra la gente no no probabilmente lo comprano ci sono anticipato ma vabbè quella steelbook lì la posso trovare anche senza la collector o dite di no la steelbook eh non lo so se uscirà la steelbook la digital deluxe e poi l'altra la steelbook la prendo solo steelbook quella lì mi piace proprio la collezione la prenderei no no credo che sia solo nella collector peccato la steelbook è molto carina però vabbè tra l'altro la collector è solo esclusiva sullo store playstation la? la collector con la statua la vendono solo sullo store playstation ah ma comunque io penso ragazzi che la maggior parte delle persone che prenderà la collector lo farà per la statua poi sicuramente interessa a qualcuno la collector sicuramente lo fai per la statua o la steelbook o la statua comunque quelle cose lì se non ti interessa la statua prendi la digital non è che è quello cioè per forza prendi quella pro la digital chi cazzo sono tanti 200 euro mamma mia possiamo vedere in quante copie la fanno mi piacere però non lo faranno non ha il disco il gioco c'è la collector c'è la steelbook ma senza disco vabbè quello ci sarà il codice no però full digital ah no c'è il codice che ci sta controlla su amazon di solito io steelbook le trovi su amazon recuperate tutte le steelbook no ma non in generale dico questa dipende se la vendono solo con la collector magari è più difficile se la trovavano anche io quella di persona io la steelbook l'ho presa su amazon ma quella di persona non credo fosse così tanto esclusiva come questa era esclusiva più o meno non era tantissime copie ma non era proprio come questa qui questa qui penso sia molto più esclusiva tra l'altro quella di persona è fighissima sempre più contento di aver fatto la spesa cioè neanche il disco cosa ci faccio con la steelbook ci pulisco il deretano ti danno il codice la steelbook è da esposizione cioè c'è proprio scritto steelbook display case è fatto apposta perché così almeno puoi vendere questa edizione anche a chi ha la digital la playstation digital se no uno si prende col disco e non se ne fa nulla si no ma poi è fatto per venderla il coso fisico ad oggi non ti serve più a un cazzo cioè giusto per la custodia da esporre quindi se dentro non c'è il disco non te ne frega un cazzo perché tanto non l'aprirai neanche mai è vero final fantasy 7 con due dischi però vabbè non so se in tutte ricky eh sicuramente in alcune non so se in tutte tutte in tutte tutte no sicuramente però qualcuna secondo me c'è ancora ormai il trend è quello vabbè sì l'avevano detto si sapeva ma secondo me tra un po' proprio sarà cioè va solo per i collezionisti ormai sarà tutto digitale già dalla prossima console cioè da parte nintendo discorsi che abbiamo già fatto il resto sarà tutto tutto in digitale che a me dispiace da una parte perché mi piace collezionare le cose dall'altra capisco che manca a livello solo di ambiente avere meno merda in giro per carità può essere una cosa ma tra l'altro exoprimal quando è che lo facciamo? exoprimal? eh mi ricordo anche che è quello che devi sparare i dinosauri con l'antem ma devi sparare i dinosauri ma dov'è? dove si trova? sul game pass dovrebbe essere dall'altro a me mi sta per scadere mi sa il game pass però in caso se li fa ah beh sì in caso si piglia exoprimal non me lo ricordo proprio anzi mi è scaduto il pass confermo exoprimal dai quello della capcom grazie grazie ma se lo vedo mi ricordo sicuro che hanno fatto vedere le skin di Ryu e e e come si chiama disponibile il 14 exoprimal comunque lo faranno vedere anche il capcom showcase ma è free to play no cos'era il game pass ma se non mi ricordo faranno vedere il capcom showcase del tra il 12 il 13 giugno 36 minuti insieme a ghost league phantom detective e altre sorprese come fai death marco cosa parli sopra la gente no è che c'hiamo un video ad altissimo volume quindi se stavate parlando non l'ho sentito assolutamente lo ho passato ma continua a essere altissimo tra l'altro intanto dell'esempio delda dovrebbe essere la prossima serie di nintendo che sarà adattata per il cinema si l'avevano già detto si si erano altre voci si erano state ah mi ricordo che il simbolo di exo prime l'avevo detto sembrava il grande fratello all'inizio quando si apriva sono io capo comico ecco scusami marco capo capo prince of persia dello scrum jordan mechner entusiasta del gioco chi è jordan mechner il papà della serie prince of persia secondo me non è vera questa cosa però non sembrava brutto no no non sembrava brutto però il papà della serie secondo me era perché c'è più dei soldi probabilmente dici probabilmente non sembrava brutto però appunto il papà della serie che ha creato lui vedere questa cosa qui secondo me non è che gli ha fatto proprio piacere visto che il gioco sembra si bello ma ispirato zero tenendo conto che avevano fatto il gioco l'hanno cancellato perché faceva schifo ma te dici magari è contento perché magari è contento perché quello che aveva visto prima gli faceva talmente cagare però magari sai che ogni tanto fanno la cosa di partire in quarta con i giochi fanno uscire preparano tre o quattro sicuramente dal trailer dell'altro remake di prince of persia sicuramente entusiasta di questo ma c'è proprio il virgolettato t'ho aspettato questo momento per così tanto tempo non posso chiedere che finalmente sia arrivato il primo trailer non era lui sicuramente l'ha scritto uno di ubisoft per dire ah avete visto come ha detto il papà di prince of persia non era vero è morto in realtà ha anche specificato appunto che non è un sequel di nulla è solo un nuovo inizio e non l'ha scritto lui quindi no beh io di prince of persia ha detto che avrà il piacere di scoprirlo come tutti noi l'ho riconosciuto subito che era prince of persia però però cioè diciamo che è la cosa che mi ha fatto caccare tralasciando il principe zoomer che vabbè a me in realtà ha fatto più il gameplay riprende il gioco è molto moderno questo e mi piace no sì però nel senso come gameplay ti ricorda un po' i metroidvania esatto no a me quello che ha fatto caccare sono tipo i boss e robe così che sono orribili cioè sono non è che sono orribili sono veramente zero fantasia però per il resto sembra molto carino il gioco sono zero ispirati sì però il gioco sembrava molto carino quindi ci spero ma sicuramente mi piacerebbe provarlo soprattutto su Switch questo è un giochino che giocherei su Switch era la vera host del gioco e non era la musica del trailer poi poi cos'altro ci è è Sandlay che abbiamo presentato ieri che va bene ne abbiamo già parlato sono molto curioso di quello è scaduta la licenza di venerdì trevici il gioco quindi tra poco verrà tolto dalle piattaforme per sempre ah trevici farla l'ultimo giorno e infatti lo stanno scontando parecchio ma non avevano annunciato qualcosa di tredici no avevamo fatto è lo studio che aveva fatto un gioco per un altro simile per un altro franchise mi pare probabilmente la demo di Lies of P questa sera alle 20 Rihannon questa sera? eh sì no stanotte no faccio la sera stanotte devo finire Decarnation bravo che l'hai detto o che non lo sapevo ma infatti lo pensavo facessi stanotte eh no no giustamente non avevo detto però stanotte devo finire Decarnation quindi no l'hai detto prima beh avevo fatto Predator Hunting Grounds quello di Piedi Sredici bello Predator Hunting Grounds eh no dove vado tanto domani dovremmo essere a casa sia domani sia dopo rimarmi per le conferenze dove vado io domenica sono in giro per forza però arrivo per la sera stavo vedendo adesso quello di Persona che avevate detto prima eh c'è il video di Lickhead di Persona 3 culo c'è 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 sono 58 secondi da Twitter hanno scritto Persona 3 Reloaded Trailer eh 58 secondi da Twitter appunto mi ha sti volumi comunque voglio Power World basta è andato anche la data di Massive Boss 2 se mi interessa internet beh figo che l'ha rifatto proprio come Persona 5 cioè parecchio bella come si sembra carino anche perché era Persona 3 cioè il 4 è giocabile il 3 era veramente vecchio era un po' più anziano 8 sì cioè per carità poi c'è tanta gente che l'ha giocato adesso il 3 tranquillamente però sicuramente averlo così è un'altra roba eh sì non mi danno più video YouTube che cazzo no veramente figo questo sembra poi il 3 è uno di quelli di cui parlano tra i migliori dicono se vuol migliore addirittura no il 4 forse era quello che la gente valuta tra i migliori non mi ricordo ma poi è sempre una cosa soggettiva per carità di Dio eh come storie sono io il 4 l'ho praticamente visto quasi tutto è come storie forse più bellino del 5 però come gameplay non sono d'accordo che è più bello cioè il 5 è molto più bello è molto più evoluto e vabbè Irly 2024 sembra figo Game Pass bla 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 questo qui non doveva uscire ricordiamo doveva rimanere un segreto ma hanno sbagliato poi hanno fatto vedere anche questo persona 5 Tactics che è tattica come 4 gold è classificato come schifezza da chi da chi magari mi ricordo male io ma insomma le persone mi fanno venire mal di testa è comprensibile eh posso capire c'è un casino non ho capito se Ball World è single player o multiplayer no quello è single player non hanno fatto vedere mai niente di multiplayer non ho capito si è un gioco scherzo ma ti pare che non mi interessa voglio farlo ma non fanno il multiplayer di un gioco che c'ha non ce n'è uno partita cooperativa online ma non funziona partita cooperativa online c'è anche la lan lan o plan vabbè però c'è partita cooperativa online guardati i video di gameplay vero sembra fatto da di itch cioè è terrificante che nessun persona è brutto sì no no quello è vero cioè nessuna persona dicono che sia brutto l'ho letto male un altro gioco multiplayer era un po' strana la frase non l'avevo capito sonic superstars ah sì beh cosa cosa che avrà multiplayer ah sì si vedeva pezzo con quattro ma tanto credo che se lo proverò proverò solo io di noi ah sonic a me non interessa e poi ho fatto una serie sullo sviluppo di psychonaut 2 se mi interessa non so su cui io psychonaut non l'ho mai un documentario psychonaut non mi è mai piaci mi è mai interessato neanche il primo mi fa un po' caccare come estetica non mi fa non caccare non è vero come estetica non mi fa impazzire che è una delle robe che piace di più tra l'altro quindi è un problema a me cosa sono i free play days di xbox comunque contro le gratis questo fine settimana con i free play days sono i free play days vabbè letteralmente poteva dirmi contro le gratis su xbox questo fine settimana che cazzo ti inventi i nomi ti testi di cazzo è perché è chiamata così andassero a fanculo li chiamassero così dimmi parla potabile stronzo ogni volta i nomi del cazzo per dire il free weekend non vai a cagare in realtà non è gratis perché deve avere xbox live gold e game pass ultimi la minchia non è proprio gratis entrambi deve avere non uno dei due però non so disimono non sta calmo no non sto calmo mi fanno incazzare eh il fine settimana in cui puoi giocare alcuni titoli su xbox però devi avere entrambi non credo devi avere uno dei due a parte che ancora che non ha messo il live gold incluso nel game pass ultimate perlomeno non l'ho capita però vabbè dicono cioè su multiplayer dice che deve essere è dedicata agli abbonati a xbox live gold e game pass ah no ultimate ideal gold ah ok ok e infatti ma però è di recente questa cosa qui vero? è di recente più o meno perché adesso mi è venuto un flash di della cosa che li mettevano insieme però nel base no che ha senso ragazzi io sono ma non era un problema della lingua inglese perché free weekend è comunque inglese semplicemente usare le parole che usa la gente e non inventarci nomi a cazzo non era una critica all'inglese la mia perché non è una lingua di merda ma magari è il loro nome per Marco 7 il settimo a uno free weekend vogliono fare la apple no sembra fighissima anche questa merita l'altro e cosa? la nuova serie zero calcare vabbè zero calcare sa scrivere da dio devo guardarla anche io il multiplayer ha visto i primi quattro episodi ne ha parlato benissimo ha detto che il mood che ricalca è comunque quello di strappare lungo i bordi nel senso che ha sempre quel taglio ironico c'è sempre tra l'altro c'è sempre Valerio Mastandrea come armadrillo e poi alla fine ti dà la botta insomma classico zero calcare se vi piace zero calcare l'apprezzerete pensa gli ezzer se mi fanno un remake di final fantasy 10 con la grafica delle cutscene eroicamente no era comunque troppo ma è già uscita credo esca breve o forse ma tanto non ci sarà non c'è avrebbe più senso fare il 9 e l'8 più che il 10 avrebbe più senso fare l'8 visto che l'8 si più che l'altro il 10 secondo me non ha ancora molto senso in realtà avrebbe senso farli di tutti però si ha senso farli di tutti il 10 sicuramente è quello che ne ha meno bisogno però non devono fare come il 7 cioè devono farlo una botta da oggi ok gioco unico e basta non diviso in mille parti che non ha senso se li fanno li gioco assolutamente l'8 9 10 sono i miei preferiti io non ho io l'8 l'ho sempre penso di averlo iniziato non mi ricordo se l'ho finito non credo ha grossi problemi però è il mio credo sia tra i Final Fantasy Mast ossia 7 8 9 10 credo l'8 sia quello più odiato cioè quello meno attrezzato è quello più amato da chi l'ha giocato all'epoca però è quello con più critiche perché effettivamente ha un po' di critiche anche di trama rispetto agli altri però per chi l'ha giocato magari come primo è come succede a me io l'ho sempre pensato fosse uno dei migliori molti reputano il migliore il 9 perché ritorna ai classici il 9 perché il 9 è molto è molto è molto è molto fantasy è molto fantasy sì poi a parte che come impostazione è più simile tipo a Final Fantasy 6 e robe del genere il 9 cioè che devi andare in giro nella mappa grande con i pupini devi andare in giro ma se vedi anche le statue in giro dei che abbiamo visto anche in Giappone del 10 praticamente non ce n'è del 8 qualcosina del 9 pieno di statue del 9 perché c'è vivi c'è Final Fantasy per il gameplay minchia sono fighi sono i eh ma se non ti piacciono i turni non ti piacciono i turni i 10 e l'8 sono più conosciuti in Europa è un po' come 9 in Giappone ho pensato subito ad Oglia io gli posso consegnare un sacco di gieri fighissimi a turni tra cui Dragon Quest persone eccetera ma tanto se non gli piace si stufa di giocare per quello che per molti l'8 è rimasto nel cuore gli piace tanto perché è stato il primo Final Fantasy ma io ho ricordo perché è stato il primo in italiano anche tra l'altro ho questo ricordo di una conversazione vecchia in cui comunque l'8 era amato da un sacco cioè l'8 era amatissimo però il 7 non l'ho mai giocato il 7 era tutto in inglese per quello che molta gente non l'ha giocato l'8 era in italiano poi da lì tutti gli altri erano in italiano però l'8 esatto il 9 non era in italiano si vabbè era in dialetto però vabbè la maggior parte delle cose erano in italiano come in Gipit come in Gipit forse il 10 è quello però sai che è una cosa un sacco il 10 era parlato il 10 si era doppiato era il primo doppiato alcune cose non tutto mi ricordo che non era tutto doppiato erano alcune cose cioè non è come adesso che doppiano qualunque cosa prima erano forse solo le cazzi nei dialoghi principali no non era doppiato come no io ho un flash che uno era doppiato ma non mi ricordo quale cioè poi c'erano i c'erano i cose no si mi ricordo la risata di Tidus me la ricordo la risata di Tidus no no era doppiatissimo c'era dopo non mi ricordo se tipo erano doppiati anche gli NPC in strada non credo no secondo me erano solo i personaggi principali e comunque le cazzi eh si erano doppiati in inglese si erano doppiati in inglese o giapponese solo e basta ma forse era in inglese no no c'era in inglese però diciamo che a molti lotto si c'era anche italiano si c'era una lista di doppiatori non so a molti è rimasto nel cuore lotto perché è stato il primo Final Fantasy eh io mi ricordo questa cosa mi ricordo che l'otto era parecchio eh si poi era bello no no ma a parte a parte che cioè è quello meno apprezzato tra quelli lì cioè quattro si che sono delle comunque i i jrpg più apprezzati quattro sette otto 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 nove dieci sono i best Final Fantasy che ci sono secondo me poi poi il set non lo so perché lo sto giocando adesso con il remake ed è un po' diverso però l'otto nove dieci sono incredibili ma diciamo prima sei che è un sacco curioso come comunque noi ai tempi della play 1 le le nostre prime esperienze di videogioco e tutto così abbiamo giocato un fottio di giochi tutti in inglese perché i tempi cioè io ti ho detto ho giocato pokemon in spagnolo la prima volta a parte quei casi lì dove proprio ma molti giochi noi li abbiamo giocati in inglese e neanche ce lo ricordiamo ma perché ti buttavi anche perché appunto o quello o quello perché probabilmente era già tanto se sapevamo leggere ma il nove cosa aveva di perché Final Fantasy 8 aveva Junction il dieci aveva la sferografia e il nove non me lo ricordo non mi ricordo neanche io il nove cosa avevo io l'ho imparato con gli uni ah gli uni no gli uni non erano del dieci non erano del dieci non mi ricordo se nel nove c'era una roba c'era neanche nel nove l'otto a me è rimasto nel cuore l'ho anche rifinito 3-4 anni fa quando ero uscito su Steam ciao anima invocazioni con l'equip il Guardian Force il Guardian Force nell'otto e in semi-junction ok però sì secondo me la trama del dieci era quella più carina secondo me a me gli incipit e tutto ma a parte che forse per gusto personale l'otto e il dieci l'otto era più bambinesco però l'avevo già detto adesso non so l'otto non l'ho mai toccato non so l'incipit dell'otto io l'ho iniziato 200 volte non so come parte l'otto però quello che dicevo è proprio che sto dicendo da qualche settimana è che non hanno praticamente mai cioè non mi viene in mente nessun gioco che parte come parte Final Fantasy X perché Final Fantasy X c'è parte con una bomba atomica incredibile che ti ti tiene lì per sempre l'otto parte più lentamente perché sei uno studente e lì è partita dalla scuola ma tutti gli altri partono abbastanza normali nel senso il dieci invece c'ha un incipit che ti sbombarda in una maniera terribile e non mi viene in mente nessun gioco ma l'otto è figo perché poi c'è c'è parti da studente e poi c'è praticamente una guerra c'è guerra tra le scuole c'è incredibile ma proprio c'è la battaglia buttato nella roba più grande di te il remake dell'otto mi piacerebbe un sacco perché è invecchiato un maluccio però vedremo l'otto in Mario Academia è più o meno sì diciamo che vabbè diciamo sei lo studente ma hai lo stipendio però Final Fantasy X è vero vabbè passiamo all'almanacco di Luca alla fine è durata come il solito più o meno prego Luca oggi oggi è il 9 giugno devo soffiare il naso tranquillo non ti preoccupare prenditi pure il tuo tempo mi hanno dei puzza skin Marco oggi sono in hype per la rassegna buba io comunque oggi è un casino abbiamo Sant'Efrem il Siro diacono e dottore della chiesa saluto ad Efrem San Columbo di Iona Abate San Diome di Martire Anicea San Messimiano di Siracusa Vescovo Santa Tecla Martiri Santi Primo e Feliciano Martiri e Santa Madrun vedova Santa Madrun infatti della storia nel 1588 a Venezia venne posata la prima per la costruzione del nuovo ponte di Rialto che va a sostituire con il legno crollato nel 1524 nel 1934 nel costometraggio Disney La Gallinella Saggia debutta al cinema il personaggio di Paperino grande nel 1958 a Luco del Mugello muore il cane Fido che ogni giorno per più di 14 anni si è recato alla fermata dell'autobus per aspettare il suo padrone che però era morto durante i bombardamenti aerei esatto nel 1974 e lo ha trovato due anni prima di morire e il 2005 invece lo face solo per 10 anni circa guarda è pure più poi c'è anche un altro beh ma un sacco di gente ha chiamato il cane Fido comunque nel corso del tempo si poi nel 1958 beh anche il 2005 è abbastanza vecchia nel 1941 la storia vera è vecchiotto credo gli anni 70 sicuro anche secondo me era anche a me era gli anni 70 no non è vero in realtà la storia no era periodo guerra no acico è nel morire nel 35 anche perché i resti cioè la prima statua di acico non è quella che c'è adesso proprio perché usarono i resti gli scarti di metallo eccetera li usavano tutti per fare proiettili armamentari vari nel 35 quindi si per forza la guerra c'era di mezzo poi nel 1970 all'università di Princeton conferisce la laurea d'onore in musica Bob Dylan nel 1998 il consorzio Wind nato dall'accordo tra Enel Deutsche Telekom e France Telekom vince la gara in detta del governo e ottiene la licenza per diventare il terzo operatore mobile in Italia dopo time Omnitel madonna l'Omnitel sono nati oggi nel 1915 Les Paul il chitarrista e creatore della Gibson nel 1961 Michael J. Fox l'attore nel 1963 Johnny Depp che anche lui fa l'attore nel 1981 Natalie Portman che anche lei fa l'attrice e sempre nel 1981 Sara Tommasi che anche lei ha fatto l'attrice sì il proverbio del 9 giugno è il gatto cinese ed è il gatto desidera i pesci ma non vuol bagnarsi le zampe ho capito il gatto cinese non stavo capendo come si entrasse il gatto cinese e poi abbiamo la giornata internazionale degli archivi la giornata nazionale di Paperino la giornata nazionale del sesso la giornata nazionale del non scusarsi per il ciclo perché non c'è nulla per cui sono tessi colpa esatto non è che perché c'è la giornata sinceramente il ciclo e perché per non stessi colpa perché le donne si sentono di colpa cioè sono state cresciute con l'idea che ah beh magari però sbagliate e per ultima è la giornata nazionale del cucinare i propri pasti capito con punto esclamativo e lo fresce ragazzi adesso lo facciamo adesso lo facciamo tra l'altro passami già il link che poi devo sì Givo adesso poi si organizza devo croppare eh prego Marco va a lei la lei allora partiamo subito con la risposta di Luis Sal a Fedez che in quattro minuti si può dire che lo ha smontato un po' eh si può dire che col suo modo i suoi metodini e la sua simpatia ha un po' smontato Fedez ma Fedez ha risposto alla risposta dicendo sì in sostanza faccio un breve sunto sì forse sono stato un po' bastardino ma resta il fatto che comunque devi pagare il dipendente anche tu perché la società è il 50% quindi inizia questa faida incredibile aspettiamo nuove nuove rivelazioni 600.000 euro 600.000 euro aveva chiesto Luis per riavere la parte della società che ovviamente Fedez non quota così alta quindi cioè a livello morale si può essere d'accordo con Luis a livello pratico però anche un pochino viene Franci l'ha detto subito secondo me alla fine verranno fuori con qualche cosa viene per forza il dubbio un pochino però mi sembrava bello triste Fedez nelle storie magari poi è bravissimo a recitare alle due di notte Marco no l'unico l'unico dubbio che mi viene per perché sia vera la situazione è che è Fedez e effettivamente non è la prima volta che litiga con tutti quanti ci ha fatto una canzone lui stesso che dice che ha problemi con tutti quindi non cioè non mi meraviglierebbe forse però anche a me c'ha la puzza è un pochino di sitcom un po' strutturata ma vedremo i nuovi i nuovi i nuovi situazionamenti ma passiamo anche a Damiano e Giorgia Soleri che si sono lasciati ma non è che si sono lasciati fine di una storia d'amore lunga è uscito prima di tutto un video di Damiano in cui limona con una ragazza di brutto ad un concerto tra l'altro questa ragazza anche in passato a quanto pare Damiano faceva dei commentini no già in passato gli scriveva sotto le foto diceva possiamo dire che siamo fidanzati ti amo insomma persona amica loro però il fatto è che si fossero lasciati e Damiano si rifidenzava non c'era problema il problema qual è che Giorgia Soleri dopo questa cosa ha defaluato tutti quindi c'è qualcosa che non va sotto ma vedremo anche qui prossimamente che succede ha defaluato tutta la band Giorgia Soleri perché giustamente magari gli altri erano complici eccetera eccetera Damiano ha fatto una storia dicendo c'eravamo già lasciati non c'è nessun tradimento però vabbè vedremo come lei abbia molti collegamenti con gli altri della band se non tramite lui visto che non sono mai insieme credo fossero amici anche perché loro due sono fidanzati da tipo 15 anni però vabbè vedremo 15 magari no ma insomma tantissimi anni 10 forse andiamo avanti con Aurora Ramazzotti che dice non ha lato più è finito il lato è finito il lato l'influencer mette in scena un simpatico siparietto con il figlio Cesare per rispondere Cesare allora allora vabbè è un nome normale italiano almeno non è uno strano un saluto però un saluto a Cesare Cremonini e a Cesare Cantelli grazie Sidna che è un uomo bellissimo tra l'altro con i suoi baffi alla Ted Lasso poco fissato con Ted Lasso ultimamente vabbè andiamo avanti l'ho quasi finito comunque non c'è più latte andiamo avanti allora questo articolo è così Chiara Ferragni e Fedez sono andati alla festa della scuola di Leone e l'articolo è così Chiara Ferragni con il pantamutanda alla festa dell'asilo in realtà il titolo non era così l'hanno cambiato perché quando l'ho aperto io il titolo era questo quindi Chiara Ferragni con il pantamutanda alla festa dell'asilo ma continuava dicendo ma vergognarsi è Fedez perché nella storia c'erano tutti c'era Fedez che diceva tutti i papà sono in giacca e cravatta eccetera e poi ci sono io con i pantaloncini e la canotta questo diceva nella storia però sì c'era Chiara Ferragni con i pantamutanda sono questi pantaloni strappati non che il mio giudizio il fatto di moda c'entri qualcosa la maglia di Forrest Gump come pigiama quindi figure però andiamo avanti con Moda Mare 2023 i bikini super sensuali per illuminare l'estate li vuoi sapere Moro? non te li dico perché non ci sono scritti andiamo avanti con allora questa è una notizia in realtà non da mia rassegna ma interessante perché Tom Holland ha appena finito una serie che si chiama The Crowded Room che uscirà su Apple Plus TV la stanza ripiena piattaforma preferita per me però cosa ha detto che dopo questa serie di cui è anche mi pare il produttore sì Interpreter Producer ha detto che rimarrà a riposo per un altro anno lui aveva già fatto una pausa tempo fa tornerà a riposo per un altro anno quindi Spider-Man sicuramente non lo registrerà in quest'anno perché a quanto pare è tornato insomma il suo problema che aveva già avuto di salute mentale a proposito anche Brian Cresto ha annunciato che si ritirerà nel 2026 in Francia fare la cosa dovevo fare in Francia si ritirà ma che sfigato con tutti i soldi va in Francia veramente sono tanti posti belli Portogallo il Giappone beh l'Italia stessa Portogallo perché è fighissimo il Portogallo io ci voglio andare è bellissimo il Portogallo ragazzi ora che è molto sottovalutato molto sottovalutato il Portogallo che tra tutti i posti del mondo hai detto il Portogallo eh lo so perché è una delle mie mete come per io sì dove vanno i pensionati il Portogallo davvero sì perché costano almeno le tasse ah beh costano le tasse lo sapevo per via di Marzia però se no so che è bellissimo il Portogallo anche a Malta vanno i pensionati anche Malta è carina comunque non ci abiterei però il Portogallo è figissimo allora andiamo avanti con quindi insomma un abbraccio a Tom Holland speriamo possa tornare il prima possibile informissima e poi la notizia l'ultima poi c'è il momento a Marcord che possiamo dire gli ultimi gli ultimi bombe da parte di un uomo che sta piano piano andando a scomparire per colpa delle sue dichiarazioni che è Claudio Lippi è venuto fuori con l'ennesima dichiarazione da Bo chissà forse si è rimbambito ha iniziato a dire che in tv ci sono troppi gay e gaie e che che sono le gaie però scusami sai piccola gag da Boomerone e ha detto che ormai alla Rai fanno tutto solo per i gay e solo in quanto gay non perché hanno valore vero o perché fanno qualcosa di effettivamente talentoso nella Rai ma che te ne ho vissuto ce l'aveva ce l'aveva principalmente con la Rai che dice che appunto fa solo propaganda ma perché lavora lì penso solo per questo lavorava lì lavorava sì penso l'abbiano cacciato anche al cinculo però sì ha fatto questa dichiarazione dicendo tra l'altro ha chiuso con questa frase bellissima grazie Jack Holmes siete pronti ragazzi per tornare tutti insieme nella preistoria ha fatto questa dichiarazione dicendo tanti e tante che non avevano alcune competenze riferite ai gay e la Rai li usa per fare coming out allora anche noi etero dovremmo fare coming out a 78 anni è un ragionamento che posso capire da uno di 78 anni non lo so non lo so ma a 78 anni era la senile comunque e beh capita però no è che cresci in un altro sei cresciuto in un altro c'altro io di solito ma certo certo deve essere spettrofortunato quando parliamo di queste cose io di solito dico lasciamo stare che poi ci denuncia che sono ricchi lui mi ricordo io nel dubbio non metto bocca facciamo così andiamo avanti comunque gli ultimi due momento a marcorda abbiamo il DJ tedesco Sash credo si pronuncia credo Sass è un H quindi Sash a Italia Unz nel 1900 non so cosa sia Italia Unz ricordo Sass ricordo Unz Italia Unz è veramente una supercazzola ma il DJ tedesco Sash a Italia Unz nel 1998 questa è la notizia immagino sia una trasmissione di musica stupida è perché tzunz tzunz esatto musica della discoteca penso di sì c'era il palco estivo sulle spiagge esatto sembra quando Militello faceva salutare ci fa un saluto alla Greggio e alla Unz che era lui diceva un saluto a Greggio e alla Unz ecco salutarono i vecchietti e poi abbiamo ricordate Dominic una componente dell'Hollipop io no fan vedere chi è stata a Popstar io non me la ricordo Dominic mi ricordo le Lollipop ma non lei in particolare quella con i capelli corti si ha avuto anche i capelli corti neri si ha avuti sia lunghi che corti vabbè un salutone alla Unz e possiamo andare con il momento più pornografico visto che è la giornata del sesso della giornata ovvero il guest the game ma prego Liezzar diccelo tu che sicuramente te lo sei già spoilerato ma è una ventola è che ventola non ho idea luce azzurra e quindi un gioco nuovo sopra cos'è il cappello un gioco nuovo non lo so non è quegli infissi lì non è che mi sembrano Alex si è messo l'elmetto del visore grazie Mewtwo grazie Mewtwo è incredibile come ci sono arrivato con che giro era veramente eh sì sì perché l'ho capito dal cappello perché ti puoi mettere tipo le robe in testa e vedi un pochino il bordino su Alex e l'avevo me l'ho fatto la domanda solo che mi sembrava bruttina la grafica della ventola ma vabbè grandi 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 poi metterò è world per i giochi sì praticamente è world per i giochi metterò centinaia di robe qui sto cercando di creare diversi stereocchi non ha messo niente ancora eh passo qui male male ma silenzio fa proprio ridere come parola salama da sugo comunque salama da sugo e il carboco eh cos'è il carboco cosa ho detto ma cos'è è minecraft comunque è la nascita di carboco il carboco vi saluto ciao ciao luca però moro adesso c'è un momento fighissimo ci devi ristrimmare nooo e devo vedere il tuo cibo dai veramente chiudiamo la rassegna comunque si vabbè si fatemi mettere in posizione forno ecco qua chiudiamo la rassegna oh e adesso ragazzi prima di aprire di 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 giochi è game game d game d d non possiamo farne due però ragazzi di cosa oddio che grafica è game delle un altro indivica limited daily classic ah è fatto un pochino diverso dalla copertina carino tipo è il tears of the kingdom è quello di oggi si è vero ma è carino anche questo proprio in particolare vabbè comunque dicevamo passiamo all'ordine del fatto qui dobbiamo ordinare da mangiare a riscammarmi il telefono a riscammarti al telefono ti hanno chiamato vabbè devi rispondere per forza come voi è normale oggi muore una bella pasta in bianco dai no allora vediamo un po' cosa offre per la settimana prossima Hello Fresh così che sabato non questo il prossimo andremo a cucinare insieme e ovviamente chi acquista tutta la gente che acquista entro domenica avrà queste ricette qua altrimenti settimana prossima avete queste altre vediamo un po' intanto c'è che mi ha già consigliato cotolette di pollo alla palermitana bocconcini di maiale e pera alla coreana interessante pinza al bacon croccante ricotta carino bocconcini di maiale e pera alla coreana però l'avevo già l'avevo già provata una roba del genere mi pare con la pera così buona con quei dolci vediamo sotto tacos di canna yogurt alla vietnamita aspetta è fissato quei tacos non ce la fa ma ci sta prendendo avevo preso quei tacos quella volta lì erano incredibili fino a quando avevamo la formazione sempre fino a fine mese quindi avete due settimane di tempo vi ricordo ragazzi nuovi account 50% sul primo ordine un affarone e per i vecchi account c'è comunque il 25% nuovi account mi raccomando dal link che mettiamo noi in chat come non è così 25% c'è comunque no nelle settimane successive ah nelle settimane successive ok nel 50% per la prima settimana poi 25% le due settimane dopo se sono già passate non c'è più allora aspetta partiamo comunque dal risotto i gamberetti e burrata pugliese che non è malato non era già stato visto no era diverso un pochino diverso beh sicuramente qualcuna poi rigira sì 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 qualcuna rigira anche perché poi tante ricette piacciono e la gente le vuole eh sì le vuole mini salsiccia di maiale al latte ok allora perché vedo sotto perché è morbida è più morbidina patate sì pure non è salsiccia dura con carote alle erbe purè di patate a me la salsiccia piace dura sono tipo sembra quasi polpette no beh sono tagliata a pezzetti però sembra salsiccia normale ma questa non mi intriga a me sì cazzo sì per carità sembra una ricetta veramente easy da fare comunque questa qui anche no non era una battuta non stavo scherzando la salsiccia più dura mia zia la faceva piccante che era proprio durina non era molliccia era la salsiccia dura e la fa andare finché non si non diventa più croccantina la tutto fuori e poi dentro è più durina invece quelle molli poi abbiamo l'onza glassata al miele soia con della quinoa quella no del bulgur cazzo è il bulgur una sorta di salamino sì una sorta e il maialino cos'è il sono costine no l'onza di maiale qui sono delle costine però con anito e bulgur e i fargiolini magari è tagliata solo in no la l'onza sono delle fettine sono eh ma magari l'hanno tagliata in quel modo lì sì no sembrava però pacchetto di mandone questo qui non sembra malaccio bulgur è tipo couscous però più grosso sembra c'è scritto sotto è una specie di piccola pasta simile al couscous formato dal grano dure integrale germogliato interessante vedo con i piccoli pezzettini regolari sembra un couscous un po' più grossolano comunque non è male poi questo pollo impanato al timo e limone con contorno di patate e bietole alla maionese il contorno mi piace un botto però mi sembra rompipalle da cucinare questo dice facile difficoltà però devi stare a impanare tutto però sembra buono sembra buono sembra molto buono sicuramente a me le patate in insalata così ragazzi in giappone sono fissati con l'insalata e le patate qui non tantissime penso di averle mangiate senza ordinarle tipo 5-6 volte perché me lo mettevano come contorno io la vedo più come roba nordica tedesca non sono semplici da fare perché le patate assorbono quindi quando le fai in insalata rischi che diviena un pappone asciutto in giappone è molto quasi un'insalata russa di patate è proprio buona insalata russa quello più o meno è il concetto non c'ho le patate però nell'insalata russa no nella russa sì pezzettine di patate sì nella capricciosa non ci sono no neanche nella russa io non ricordo le patate non me lo ricordo forse qualcuno li usa poi magari qualcuno la fa con le patate vabbè poi c'è hamburger di carne e maionese alla seriraccia piccante che buone quelle patate sembrano buonissime patate sì è piccante perché c'è la seriraccia la seriraccia sì è piccante è un condimento base di peperoncini zucchero e aceto nato in Thailandia la seriraccia è buonissima farci la tartare di salmone con la maionese la seriraccia e l'erba cipollina viene una roba divina ragazzi porca miseria che buono se non siete amanti del piccante toglietela o usatela allora comunque leggendo su google nell'insalata russa tipicamente poi dipende come al solito ti dice dalle regioni da chi te lo fa potrebbero esserci verdure lessate patate tagliate a dadini piselli carote sottaceti uova sode quindi questi sono gli ingredienti che si usano principalmente per la salsa per l'insalata russa quella che mangiavo io non c'erano per esempio le patate neanche le uova mi sa è particolare il sapore della sriracha non è così tanto piccante però comunque piccante è particolare come sapore non saprei descriverlo con il salmone la taratata di salmone si sta da dio però io l'hamburger lo vorrei provare un hamburger di yellow fresh prima o poi però io ti ho detto ho visto quello di kafkania sono impazzito è che questo sembra molto semplicione in realtà però si ho couscous guazzetto di orato guazzetto di orato questo a me non mi piace ah couscous perlato però vedi è tipo la come si chiama quella sarda tipo la la fregola sembra dice che è tipico di israel quel couscous sembra più tipo la fregola questo qua questo non è proprio my cup of tea eh minchia a me sì il guazzetto allora il guazzetto di orata non mi ispira neanche a me troppo però il couscous perlato cazzo lo vorrei provare puoi sostituire l'orata volendo prova a vedere lì no puoi sostituirla aggiungi no pensavo ce la sostituire vabbè ma non ha senso se la metà del piatto non ti ispira eh no non lo so in realtà l'orata non mi fa schifo a me non piacendomi quella ravioli di nasello al burro timo e limone non mi interessa troppo madonna il nasello quando ero a dieta per la palestra che merda mi fa schifo a me il nasello vi giuro mamma mia lo mangiavo a forza lo mangiavo tagliata di pollo insalata di patate e noci vabbè questo mi sembra molto easy penne integrali pomodorine pancetta anche questo lo so che piace capisco a chi non piace la neto perfettamente è veramente tosto o lo ami o lo odi io in realtà non è che lo amo semplicemente me lo accollo cioè se c'è va bene e io il nasello non mi piace proprio ragazzi lo mangiavo lo ho mangiato per settimane intere per la dieta ma veramente me lo buttavo in gola e ingoiavo proprio non mi piace mi faceva venire lo sbocchino però appunto non sono amante del pesce cotto burrata soffice su panzanella integrale cetrioli pomodoro ceci basilico bella questa buona bella fresca anche tra l'altro questo sai che mi ispira è un bel piatto fresco di stagione vegetale vegana si è un no non è vegano è vegetariano si c'è scritto veggie ma in realtà vegetale si è vegetariano è vegetale si questo se ti piace guarda che anche per la stagione è bello fresco no no questo mi ispira mi ispira un sacco frittelle di zucchine di zucchine e carote queste le fa mia mamma sempre anche mia mamma più o meno è una cosa difficile addirittura è forse per la croccantezza del devi stare a tagliare tutte le cose ti dicono anche uova non incluse che dovete averle voi si le uova non le includono mai si perché se non esplodono quando le foto è tosta da portare è tosta da portare anche se cuscuse i pomodrini e mozzarella di bufala anche questa è interessante ragazzi io lo adoro è l'estate anche poi ma poi è una cazzata da fare il couscous ed è versatilissimo il couscous in padella come si fa? come devi mettere in padella lo fai andare? no c'è il couscous io l'ho sempre peso già fatto ma è una stronzata fai bollire l'acqua poi la versi nel couscous aspetti è un po' come fare sai che buon e poi dopo lo condisci con quello che ti pare lo fai in 5 minuti poi ci sono diversi modi per farlo come è tempo a totare 35? per tagliare tutte le robe preparare le robe olive e leccino ho letto lecchino con olive e leccino mandorle e glassa al balsamico questo cazzo lo puoi fare anche risottato sì direttamente sì lo puoi fare in diversi modi no ma Greri che io lo mangiavo il couscous e che io lo prendevo già quel modo è più facile di farlo credo quello che ho detto io sì sì lo so lo so Greri che l'ho mangiato un sacco di couscous anche come era l'altro pure il couscous e il il farro il farro lo mangiavo anche parecchio poi chili Tex-Mex ai fagioli neri e formaggio non mi sembra allora dall'immagine non mi ispira molto eh c'è la salsa yogurt è buonissima mi sembra un le robe che metti di solito dentro il dentro il come si chiama il paneino il taco però buttati nel piatto eh più o meno sì eh eh è roba da calavera tipo che ti mettono nel non so di queste all'ergeni latte uova ma non ci sono le uova nella salsa forse che ti danno salsa yogurt e contiene latte la salsa yogurt no contiene uo ah no il formaggio a pasta dura c'è dentro l'uovo giato ok che uovo ma ma domanda Mark tu hai riniziato palestra Mario non hai smesso no no io non ho riniziato ragazzi anche perché ho cambiato casa la mia palestra è fallita quindi che ritai di lenticchie e fagiolini con peperoni e riso coriandolo e spinaci se vi piace il coriandolo più che altro che è quello più ostico per la gente il coriandolo si sa un pochino di detersivo ma lo fai se non ti piace esatto se non ti piace puoi metterne anche poco non metterlo perché il coriandolo è sempre un po' come la no l'aneto ancora di più in realtà l'aneto ancora di più coriandolo ho detto l'ho mangiato in Chinatown ho preso dei nigiri con dentro surimi aneto e un amico con un altro cera ed era forte molto forte come ascolto allora ok questo comunque mi ispira un botto e l'ultimo sono falafel su salsa di babaganoush di melanzane buono è di melanzane si è fatto di melanzane buonissimo questo è molto questo è molto interessante però quell'insalata è un po' è perché devi fare il babaganoush nell'insalata io però io sono curioso del babaganoush perché non l'ho mai mangiato però paura non mi piace eh non lo so l'aneto è forte è veramente forte l'aneto poi si il coriandolo pure è quella cosa che non piace a tutti per niente l'aneto a me mi puzza proprio il coriandolo non mi dispiace sono due sapori che capisco perché non piacciono alle persone sono forti e anche i falafel sono buoni sono le polpettine di ceci buonissimi falafel questo non mi dispiace in realtà no non mi dispiace però ho paura non mi piaccia il babaganoush pensa anche a una ricetta che puoi fare in live io l'ho mangiato solo una volta però se mangi la cioè se ti piace comunque il sapore melanzana eccetera eh però sì però la melanzana anzi la melanzana è anche un po' più amarina di base perché non hai eh no è che a pensarmela così come salsa non so falafel come l'humus le amo tanto eh ma i ceci sono buoni rivalutatissimi negli ultimi anni tra l'altro io io da piccolo era il legume che non mangiavo mai poi è diventato il mio preferito allora intanto togliamo questo ma neanche da fino a 5-6 anni fa in realtà dicevo era buona allora a me ispirava qui mini salsicce di maiale e latte allora intanto la giù poi vediamo i tacos questi qui in realtà sembravano un po' semplicini e poi l'hamburger lo vorrei provare ma no poi c'era questa burrata soffice su panza all'integrale mi ispirava molto magari non da fare in live anche quello sotto ti piaceva avevi detto allora il curry tie cazzo sembra buono però anche il couscous non si intrigava il couscous anche tantissimo è buono il couscous cioè è molto fresco anche questo di stagione però il curry tie forse togli il primo cos'era le salsicce il primo era base sì non è base però guarda che il purè che ho mangiato di HelloFresh mi ha fatto scoprire un mondo comunque non è questo avevo preso nel primo HelloFresh che avevo fatto avevo preso era il manzo era tagliato di manzo marinata non so non mi ricordo in che modo con purè al timo dove c'era da mettere appunto dentro il timo nel purè ragazzi mettete tutti il timo nel purè aspetta ma il couscous mi sembra abbastanza tra virgolette base il couscous è pomodorini e mozzarella sì esatto ce lo puoi fare a casa tutte le puoi fare a casa ovviamente la carità il curry rispetto all'altro il curry è un po' più complicato perché lo voglio fare quindi abbiamo messo il curry la burrata soffice su panze su panze l'integrale con cetriolo pomodoro ceci basilico che non è male e mini salsicce di maiale al latte e poi cosa facciamo di conseguenza facciamo il curry in live quanto vuoi dire le durate 35 questo è facile 25 questo è un insalatona più o meno 40 questo è un po' più medio farei quello facile non lo so se fare le mini salsicce però forse la gente è più curiosa di vedere ho Moro che mi sta facendo vedere le ricette Franci che mi sta dicendo cosa vuoi mangiare mi sta vendendo una cuolina adesso mi ammazzo questo è buono questo la fare in live se viene bene perché è bello da vedere forse da fare in live è più così questo è interessante dai non è una roba che ti fai tutti i giorni alla fine le robe che ritai grazie non la polenta il giglio sterile 17.30 dei piedi no il purè comunque era col timo mettete il timo nel purè ragazzi viene una roba fenomenale incredibile ma anche il timo ha un sapore che a me piace ma non so se piace a tutti è molto fresco un sacco buono anche a me piace però non so con le spezie non è mai così cioè trovi un sacco di gente che non piacciono a cui non piacciono comunque ragazzi questo chat deciso eh cazzo curry io l'ho mangiato il cazzo curry eh lo so non prendi ancora il panino però il panino è sempre lì è sempre è un panino alla fine eh ma si trovano io non eh eh franchino eh no dico dove si dove si trovano i panini buoni per gli hamburger se io voglio comprarmi dei panini buoni per l'hamburger come faccio al supermercato ci sono quelli del merda non è che ci sono fanno cacare si sfragnano tutti quei supermercati eh avranno chi no ci sono in realtà al conal ci sono quelli tipo fatti da loro che sono abbastanza buoni però non so io voglio quelli quelli zuccherini quelli quelli che vengono lucidi no al panificio non fanno che panificio fanno i panini per gli hamburger beh no al forno devi andare al forno eh ma non li fanno i panini per gli hamburger fanno il pane fanno le pizzette ti fanno il pan dolce quello che quel lucido eh quello lucido da voi ci c'è da me non c'è guarda che te lo fanno no da me col cazzo esatto quelli glassati quelli ciancicosi a me piacciono quelli che fanno cacare a franchino perché sono probabilmente lo devi chiedere perché non li cioè ho fatto la tenna cazzata ma non è vero ma com'è facile farlo ragazzi impossibile Mary adesso lo fai mi mandi una foto e così puoi convincermi eh altrimenti impossibile perché da me nella mia vecchia nel mio vecchio forno qui non ce l'ho ancora visto comunque fammi fare salva chiudi non so se scrupo l'indirizzo no ancora no perché qui c'è gastronomia extra risotto e frutti di mare pollo alla cacciatora no sì quello qui è un extra proprio io avrei preso gli altri che sono finiti cioè quella salata di faro il filetto di franzino ah no però mazzancolle no no ok no non usciva niente vi faccio vedere ok quando è che è settimana prossima sì no ce l'ha scritto il giorno in teoria dovrebbe essere dopo lo posso selezionare io nel profilo però vediamo un attimo settimana prossima settimana prossima tanto qui vediamo cosa c'è settimana prossima non mi mani ci vuole caramellate sgombro olive orata impanata burger e pollo sfilacciato vedi però povcatoia bello bello questo un pollo sfilacciato barbecue e pancetta cazzo anche qua burger di petto di pollo alla messicana dai e mi sa ragazzi fai di nuovo l'ordine settimana prossima con solo hamburger pesce c'è un terzo userò il codice sconto termosifoni per fare il 50% di questa box ragazzi potresti farlo effettivamente con la mail i termosifoni naturalmente amici mi raccomando portiglia si ripiene di polpettine di carne cazzo ma sono tutte mi sa che ti tocca qua sono tutte buone un pochino più sfigata la settimana la settimana prossima niente aspetta la settimana prossima e dopo poi ti arriva la settimana dopo ancora è finita la promozione bocconcini di lonza al limone insalata di gambetti rucola e mela carina semplice carina orzo tiepido alla crema di rucola e feta ma che ci sono altri burger minima maiale allo zenzero e salsa che cazzo mini burger vabbè mini burger di carne patate e salsa verde pappa al pomodoro express noodles alla soia e tofu fritto crema di lenticchie burrata pugliese tacos mediterranei all'avvocato quanta roba buona falafel e crema di ceci alla paprika ragazzi ma sta questa settimana qui è impossibile scegliere però eh porca troia mi ricordo che se la premessa di premio la prossima mi arriva la settimana dopo ancora quindi guardate bene la settimana la settimana dal mercoledì 21 giugno in poi questa qua porca troia questa qui è veramente terrificante scegliere quella dopo no basta non guardo ho una fame maiala burger di polpette pollo stracchino cos'è pollo fritto no sopra cos'è dove pollo impanato pane panico e sesamo sandwich al formaggio stile cipro e malanzacarino bestia bello ma è croccante però mi si smonta tutto bello non è quella una beuda però se ti si rompe ti cade tutto si si rompe tutto però bono per terra eh sì valutate bene quando acquistare considerate che avete 50% prima settimana 25 e le altre due successive quindi comunque dai dai sconti ne avete mi raccomando dal nostro link con i nuovi account se avete già ordinato una volta con l'erofresh non avrete lo sconto quindi fate il nuovo account in caso esatto bene hai ordinato hai fatto si si l'abbonamento l'ho già riattivato prima ok hai stato usato tre scena eh sì a posto a posto fammi vedere un attimo mercoledì bravo riprogramma consegna no mi raccomando dal nostro link voglio giovedì ah vero ragazzi è venuta una biocca hai ragione è molti secondo me un po' l'avete scritto infatti capitate nel sud Italia e Sardegna eh purtroppo sì porca miseria eh ragazzi che palla purtroppo sì va bene va bene chiudo le cose e facciamo sì prima o poi arriveranno è che se non lo so non l'hanno fatto cioè che devono aprire una sede eh sì non lo so come funziona perché forse è complicato anche per reperire visto che HelloFresh prende alimenti dal territorio selezionare l'ora della consegna non lo so no l'ora non credo sa solo il giorno l'ora non credo sì sì punto sulla freschezza però si mangiano veramente un buona fetta di popolazione però ottimo Gepard c'è da dire che al nord è dove usano di più tipo delivery e ste robe qua quindi sicuramente è la fetta minore però sì sicuramente una fetta se la mangiano sì però farà almeno una sede tipo a Napoli o qualcosa di genere che può andare al sud eh sì perché fino a Napoli arrivano però è l'ultima cosa e più che altro al sud poi sarebbe tutto eh ma noi abbiamo le cose no se affanculo sti goglioni sì effettivamente poi mettono burrata pugliese ma in Puglia non consegnano grazie Spartaco grazie Spartaco da me funzionano non funzionano delle ore più grandi bene anche da me io comunque abito in Brianza che è la zona più ricca d'Italia e fa solo Just Eat gli altri nessuno c'è solo Just Eat da noi e abito in Brianza cioè che comunque non è che sono sperduto e che sei la Brianza un po' più beh è comunque una delle zone più popolose d'Italia anzi è la zona più popolosa d'Italia da me tipo spesso spesso no però c'è qualche ristorante che ha la sua applicazione per il delivery perché no almeno bypassano tutte le spese tutti i soldi che si prendono Just Eat e queste cose qui solo che è impossibile saperlo o vai nel negozio una volta il punto di Just Eat è proprio che fa scoprire una vetrina anche per il corso sì è una vetrina da me da me come vieni in vacanza in Brianza ma che vacanza del cazzo scusami per ordinare da mangiare non lo fare non lo fare ma perché vieni in vacanza in Brianza e lo fresce oddio la Brianza arriva fino a Lecco quindi c'è il lago e tutto però ah la tua signora arriva in mercato vabbè non aveva in mercato e non è qua di piatto sì in mercato era dove c'ho le torri entrate sul Diablo sì è vero che vengono fare Diablos in mercato e le torri bianche sono lì andavo sono andato al cinema alla vita lì ci vado ancora ogni tanto dovrebbe arrivare anche la metro mi beccate facile se andate le torri lì c'è Ken Schipi no in consegna al tuo pacco devo avvisare il Franci eh Ken in caso vado io ah ragazzi ho trovato due pezzi di armatura io che praticamente mi danno due scheletri in più ogni p***o